Giancarlo Sassoli, appena riconfermato alla presidenza del Calcet di Arezzo, fa il punto sui progetti da portare avanti. La priorità rimane quella di finanziare il servizio scudo per l'assistenza domiciliare ai malati terminali, che grazie alle donazioni del 5x1000 non è in pericolo. Ora la preoccupazione massima è di tutti coloro che, colpa della pandemia, avrebbero dovuto accedere agli screening e non lo hanno fatto. L'impegno del Comitato Autonomo lotta contro i tumori di Arezzo sarà proprio su questo fronte. Diciamo che è la continuazione di un impegno, c'era la scadenza del Consiglio Direttivo, così come del Collegio Sindacale, è stato rinnovato il Consiglio Direttivo e nell'ambito del Consiglio c'è stata la mia riconferma. Ovviamente è un impegno non da poco, che però faccio molto volentieri e finché posso, ovviamente supportato e con la collaborazione di tutto il Consiglio e dei vari collaboratori che sono anche fuori della nostra città. La cosa più importante è che da quando è nato il Calcet e dove ad Arezzo di Oncologia non c'era assolutamente niente, non c'era neanche una cultura. Ad oggi possiamo dire che attraverso l'impegno di tutti e il contributo dei cittadini, ad Arezzo possiamo dire che possiamo curarci per questa malattia, per i tumori in generale, diciamo bene. E poi ci sono state delle cose importanti, cose che ad Arezzo non erano previste nei programmi regionali come la PET, come la robotica, poi senza dimenticare che abbiamo costruito due centri oncologici con tutti gli strumenti dentro, perciò abbiamo dato a questa città tutti insieme tanti servizi che molto in mente senza questo coinvolgimento di tutti forse oggi non ci sarebbero stati. Uno dei nostri obiettivi è sempre quello di creare nuovi servizi oppure migliorare in maniera determinante quelli che ci sono, perciò anche l'ultima donazione andrà a beneficiarne diverse persone, qualche centinaio che ad oggi erano costrette ad andare fuori per sottoporsi a questo esame che è un esame di ecoendoscopia dove ci vogliono gli strumenti e ci vogliono le professionalità. Negli ultimi mesi c'è anche questa professionalità, perciò a breve potremo iniziare anche questo nuovo servizio ed evitare i famosi viaggi della speranza.